Bene, buonasera a tutti. Allora, adesso vediamo un po' perché altrimenti questa scritta... Bene, conflitto e mediazione è il tema di questa sera. È una prova che facciamo con questa nuova disposizione, poi mi direte voi. Conflitto e mediazione. Allora, sono due cose importantissime, perché i conflitti sono all'ordine del giorno e il mondo è pieno di conflitti. Abbiamo bisogno di mediazione e continuiamo a cercare modi. Siamo arrivati alla democrazia, la democrazia è il modo finora, forse migliore, per cercare di mettere assieme parti diverse. Non ricordate, Churchill diceva che la democrazia è una brutta bestia, ma non ne conosciamo finora una migliore. Vediamo allora cosa si riesce a dire in psicologia rispetto al tema del conflitto e della mediazione. Prima cosa, ascoltare le differenze. Quando si parla di conflitto significa, è la palissiano, che ci sono tante differenze e ci si pone il problema di come fare, quando c'è da prendere delle decisioni. Perché se non ci sono da prendere decisioni, ognuno va per la propria strada, le differenze, ognuno le coltiva, fa il proprio essere. Ma il problema è che è un problema continuo, 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 quando dobbiamo prendere delle decisioni. Allora, vi dirò una serie di cose non facili, perché in psicologia ci sono una serie di principi che sono difficili da assorbire. Allora, prima cosa, ormai conoscete, vediamo, questa tazza tutta piena che trabocca la conoscete. Vi capiterà sicuramente di sentire delle cose questa sera non facili da digerire. Quindi, però l'invito è, perché parliamo di conflitti e di mediazione, il primo è quello di ascoltare. Ma per ascoltare bisogna in qualche modo cercare di svuotarsi. Perché istintivamente, quando noi sentiamo qualcosa che va contro quello che noi pensiamo, istintivamente tendiamo a rifiutarlo. Google, Yahoo, tutti i motori di ricerca, questo lo sanno benissimo. Per cui, conoscendoci, se noi navighiamo, quando noi facciamo delle domande, cercano di darci, come primi risultati, i risultati più vicini al nostro mondo di ricerche. Questo è ciò che fanno i motori di ricerca, a meno che voi viaggiate in incognito. Quando voi aprite Google o Firefox, se schiacciate sul tasto destro, vedete che vi vengono una serie di scelte. Una di queste è navigare in incognito, che in realtà non è in incognito. Però, se voi navigate in incognito, l'unico vantaggio che avete, oppure svantaggio per qualcuno, è che non vengono memorizzati i siti dove voi andate. Non vengono memorizzati. Per cui Google, Yahoo, eccetera, eccetera, non sanno quali sono i vostri gusti. Se invece voi navigate normalmente, quindi aprite tranquillamente col tasto sinistro, Google e tutti i motori di ricerca tengono memoria tutte le vostre ricerche. Quindi, se tu fai una domanda, se tu invece fai la stessa domanda, ma hai una storia diversa nella tua accedere ai motori di ricerca, ti dà risposte diverse. Cioè, prende le risposte più vicine a te e te le mette in prima pagina. E, se l'altra persona ha gusti diversi da te, il motore di ricerca mette in prima pagina le risposte che sono più vicini alle sue ricerche, al suo modo di pensare. Questo è un vantaggio, nel senso che, se c'è qualcosa di nuovo rispetto ai nostri gusti, ce lo indica. Ma è nello stesso tempo uno svantaggio, perché il rischio è di andare sempre a vedere cose simili a noi. E il diverso, quello che crea conflitto, quello che crea punti interrogativi, quello che ci può dare delle occasioni di crescita, ci è difficile andarlo a vedere. Ok, quindi l'invito è questo. Vediamo. Allora, conflitto e incompatibilità succede. Non sempre si riescono a risolvere i conflitti, ed è un problema. I conflitti derivano dalle differenze che possono anche essere delle incompatibilità. Allora, noi non abbiamo bisogno di una battaglia per ottenere una vittoria. Questo è il principio fondamentale in democrazia. Non abbiamo bisogno di una battaglia per ottenere una vittoria. E vediamo come fare. Vedete qui la copertina di un testo di Pat Patfort. Questa Pat Patfort è la caposcuola di una scuola belga che studia la teoria dei conflitti e come risolverli. Pat Patfort è in Belgio, c'è un'altra scuola importantissima negli Stati Uniti, a Boston, al Massachusetts Institute of Technology, che studia tutto. Sono due grandi scuole e poi ci sono tanti, tanti, tanti che cercano di affrontare questo tema. Allora, vediamo. Gestione non violenta dei conflitti e dei confronti. Questa è Pat Patfort che fa una lezione, purtroppo non la vediamo per quella scritta, che non riusciamo ad eliminare. E' necessario difendersi, ognuno di noi, il primo istinto è quello della sopravvivenza. In psicologia questo è ovvio, ma abbiamo due strade, la guerra e la non violenza. La soluzione creativa dei conflitti fa parte del mondo della non violenza. guerra, l'abitudine, ecco qua, l'homo sapiens. Siamo abituati a lottare, in particolare negli ultimi 12.000 anni. Cioè da quando l'uomo ha iniziato l'agricoltura, prima di 12.000 anni. Pensate che l'ultima glaciazione è finita circa 15.000 anni fa. L'ultima glaciazione. E gli uomini erano pochissimi, immaginate, in quel clima dove anche tutto il Mediterraneo era praticamente vuoto, perché il ghiaccio copriva tutto, tutta l'Europa e gran parte del mondo. E gli antropologi ci dicono che erano piccoli gruppi dove vigeva l'ugualitarismo. non c'erano differenze, perché piccoli gruppi, 50, 70, 100 persone, e poi il gruppo successivo magari era a 50 chilometri o a 100 chilometri. erano solo piccoli gruppi che hanno resistito alla glaciazione e abbiamo corso il rischio di sparire. Si calcola che alla fine della glaciazione l'homo sapiens fosse più o meno attorno ai 35.000 persone, quindi vicino all'estinzione. Ma cos'è successo 12.000 anni fa, quando è iniziata l'abitudine alla guerra? E' iniziata l'agricoltura, perché? Perché si è stabilizzato il clima. Sono 12.000 anni che il clima è stabile. Noi adesso abbiamo dei problemi, perché l'uomo, lo sapete, con le rivoluzioni industriali stiamo correndo dei rischi, non la terra, è l'uomo. La terra va avanti comunque. E con l'agricoltura, cos'è che è successo con l'agricoltura? Con l'agricoltura è cominciato l'autoritarismo. Con l'agricoltura la popolazione è cominciata a crescere, perché si coltivava, c'era il surplus, c'è quello che si occupa del magazzino, c'è quello che zappa la terra, c'è quello che fa i conti, c'è quello che pensa a distribuire. E' cominciata la gerarchizzazione. E da allora, ecco, per fortuna, voi sapete quali sono le due componenti fondamentali della nostra psiche, eros e thanatos. la spinta a unire, che con tutta probabilità era dominante prima della rivoluzione agricola, e la spinta invece a schiacciare, a dominare, a sfruttare. Con l'agricoltura ha preso forza la spinta a sfruttare. Per fortuna c'è anche eros, la spinta a unire, la spinta a trovare l'accordo, ed ecco qui, la non violenza è tutto il mondo dell'eros, il mondo della spinta ad unire. Come fare? Noi diciamo, ed è l'antropologo Lorenz, per chi di voi se lo ricorda nei propri studi, questo svizzero, Lorenz, che dice l'Homo sapiens è un anello di passaggio verso l'Homo humanus. perché l'Homo sapiens ha usato la conoscenza male, stiamo facendo i conti adesso rispetto al clima, con tutto lo sfruttamento del terzo mondo, con tutte le stragi che abbiamo fatto, noi occidentali, ma in genere, nel mondo, e lui dice stiamo lavorando, la democrazia è uno di questi passi, per andare verso l'Homo humanus. E quale sarà la caratteristica dell'Homo humanus? dice Lorenz, che riuscirà ad unire la conoscenza con la solidarietà. E non sappiamo quando arriverà. Sicuramente oggi sappiamo che la conoscenza la sappiamo usare molte volte molto male. Ma per fortuna vediamo anche tanto volontariato, tante cose positive, la democrazia che si cerca di sviluppare. Non violenza, non è passività, ma è forza, tranquilla e tenace, con vigore, perseveranza, coraggio, disciplina. Se vogliamo mettere tutto questo in una sola parola, eccola qua. Assertività. Cioè, io ci sono, io penso questo, i miei valori sono questi, dimmi quali sono i tuoi. nel momento in cui io affermo la mia assertività, affermo anche l'assertività dell'altro. Quindi dimmi la tua difesa, dimmi cosa pensi, cosa vali, cosa pensi, cosa credi, in che cosa vuoi fare, e ci si ascolta. Questo è il punto di partenza, dove non c'è passività, ma c'è affermazione di sé. come fare? Primo principio da tenere presente quando dobbiamo lavorare sui conflitti e sulla mediazione. Tutti siamo unici e irripetibili, quindi tutti siamo differenti. di pelle, di età, di istruzione, di stile di vita, di capacità, di carattere, di gusti. Tutti abbiamo punti di vista, tutti tendiamo a prendere le nostre decisioni. Punto di partenza. Ok. Secondo, tutti sentiamo un forte istinto di conservazione, istinto a difenderci, a proteggerci. Tutti abbiamo bisogno di una autostima, abbiamo una serie di bisogni. Questa, se la conoscete, è la piramide di Maslow, la piramide dei bisogni. Abbiamo bisogno, anzitutto, di cibo, sonno, altrimenti no, e poi qui è nascosto, ma abbiamo bisogno poi di una casa, di qualcosa dove... E poi, man mano, man mano che scegliamo, stima, autorealizzazione, emozioni e così via. La base è qua. Tutti dovremmo riuscire a rispondere ai bisogni fondamentali e poi aggiungere. Quindi tutti sentiamo un forte bisogno di conservazione che parte dai bisogni fondamentali e poi, man mano, i bisogni più ricchi e più sofisticati. Tutti sentiamo... Ecco l'altro elemento. Se tutti siamo diversi, ma tutti sentiamo il bisogno di relazione, di comunicazione. Pensateci un po', tutti noi veniamo da un ovulo e di una spermatozoo che si sono uniti. E per tutta la vita noi cerchiamo di unirci. Noi cerchiamo qualcuno con cui star bene. In intimità, ma poi allargate tutta la sublimazione della sessualità in tutte le attività che facciamo. Questo è il bisogno di comunicazione, di idee, di emozioni. Quindi il mondo. Chi sei, cosa fai, cosa pensi, cosa provi, cosa senti, no? L'amicizia, l'amore, la fratellanza, tutto questo mondo. E questo è un altro elemento. Ascoltare è il prerequisito per comunicare. Non interrompere. Brevità. Essere estremamente brevi e sintetici. Tutti noi abbiamo esperienza di persone che parlano, 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 parlano. E le stesse cose potrebbero dirle in due minuti, invece parlano per un'ora. Ed è un problema, no? Questa lolo, logo, sputare continuamente parole. No. E' molto interessante quando in una discussione si fissa un termine. Nel più mi pare che nel Parlamento tedesco ci sia strutturalmente questo. che so io, intervento in Parlamento nessuno può parlare più di cinque minuti, ad esempio, no? Ma devo obbligare la gente alla sintesi invece che a dare spazio ai silenzi. Anche il silenzio è riflessione, ha dei significati. Purtroppo noi, uno dei limiti, vi dicevo prima che la democrazia è una brutta bestia, ma per ora non ne conosciamo una migliore, uno dei limiti della democrazia è che ogni democrazia ha il diritto di parola. E questo va benissimo. Sappiamo che alcune volte si usa il diritto di parola per intralciare i lavori, no? Si parla, se non ci sono dei limiti, si parla per ore e ore e ore per far passare tempo e far scadere delle leggi, delle decisioni. quindi c'è un uso distorto del parlare. Purtroppo non c'è il diritto ad essere ascoltati. Non c'è. In Costituzione non c'è. In nessuna Costituzione democratica. Perché è molto difficile mettere. Ma è la base, la base di un passaggio ulteriore dall'homo sapiens all'homo umanus. Più si ascolta più cresci. E potete immaginare noi abbiamo una bocca e due orecchie. Forse è bene che parliamo la metà e ascoltiamo il doppio. Ma non è facile. Perché non c'è nessuna abitudine. E proprio anche la nostra struttura sociale non ci abitua all'ascolto attivo. Qui è Kurt Levin un sociologo che punta molto sull'ascolto attivo. Qui c'è scritto qua sotto dimmi perché tu pensi così? Tu pensi questa cosa che secondo me è completamente sbagliata. Spiegami il perché. Perché vedremo più avanti in ogni cosa che noi riteniamo sbagliata c'è dentro un pezzo di verità. Perché se quella persona la pensa ha una storia alle spalle che la fa pensare così. Ed è soltanto ascoltandosi reciprocamente che possiamo prendere dei pezzi e metterli assieme. Paridignità. Questo è uno splendido articolo della nostra Costituzione. Tutti i cittadini hanno paridignità sociale. Questo è un grande aiuto per chi vuol sottolineare l'ascolto. Se siamo pari dobbiamo ascoltarci tutti quanti. Perché tutti hanno un pezzo di storia se siamo tutti diversi. C'è una storia diversa dietro l'uno di noi. Quindi se dobbiamo prendere delle decisioni mettiamo mettiamoli a confronto e cerchiamo di spiegare reciprocamente le differenze. Ascolto. Differenza non significa conflitto ma l'abitudine ci spinge da 11-12 mila anni dall'epoca dell'agricoltura al conflitto. a schiacciare gli altri l'abitudine è scaricare sugli altri i problemi la guerra e se io non scarico e non sono assertivo e non rispetto l'assertività degli altri ma subisco 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 mi lascio schiacciare ecco che interiorizzo l'aggressività e l'aggressività la rivolgo verso me stesso e mi ammalo mi si ammala lo stomaco mi si ammala il seno mi si ammala la pancia mi si ammala il fegato eccetera eccetera un mare pensate che ormai le statistiche ci dicono le ricerche ci dicono che almeno la metà dei problemi che noi portiamo al medico di base sono problemi psicologici e là dove il medico di base c'è l'università di Roma di psicologia che ha un corso di specializzazione in psicologia in psicologi di base e quei medici che accettano quegli studenti e quegli specializzanti nei propri nei propri studi risparmiano dai 50 ai 60 mila euro all'anno di farmaci quindi non solo col vantaggio economico con 50 a 60 mila euro potresti pagare almeno due psicologi uno mandarlo nei medici di base e uno mandarlo nelle scuole no non solo 50 60 mila euro di risparmio ma effetti collaterali meno farmaci meno effetti collaterali negli Stati Uniti la prima causa di morte oggi è sono gli effetti collaterali dei farmaci ma terzo vantaggio enorme dal punto di vista psicologico è il più importante le persone cominciano a riflettere e a costruire la consapevolezza di come gestire le proprie relazioni perché è nelle relazioni che si sta bene ed è nelle relazioni che ci si ammala tutte le malattie sono malattie di relazione che poi scarichiamo dentro il nostro organismo come cambiare? Henry Laborit è l'elogio della fuga ecco il cambiamento è sempre molto difficile Henry Laborit è un neurologo che ha scritto questo libro carino dice se tu stai bene va bene vai avanti così ma se stai male fermati esamina le cose che stai facendo il rischio che tutti corriamo è di ripetere gli stessi meccanismi quindi continuare a star male allora esamina quello che stai facendo e scappa cioè comincia a cambiare comincia a provare a cambiare elogio della fuga Gandhi questi sono tutti personaggi che hanno lavorato per la non violenza per la comprensione da Andy Aldo Capitini se lo conoscete poi vi dicevo la scuola di Boston il caposcuola è Saskin la scuola di Bruges che è la Patford che vediamo adesso e Laborit che ha studiato molto sull'aggressività partendo dagli esperimenti con i topolini e vedendo come funziona l'aggressività il modello della non pari dignità allora mentre l'articolo 3 l'abbiamo visto dice tutti hanno pari dignità cosa succede quando noi invece non viviamo la pari dignità di chiunque di chiunque io credo di avervelo detto altre volte io parto sempre a dare del tu a tutti al sindaco al presidente della repubblica al medico all'avvocato qualunque persona do del tu per questo articolo della costituzione italiana se lo accetta vado avanti se non lo accetta gli spiego aiutami a darti del tu perché mi aiuti a rafforzare l'articolo 3 dentro di me l'articolo della costituzione siamo in pari dignità perché quando uno scatta la pari dignità ecco noi vediamo continuamente la deumanizzazione non è una persona come me ho visto c'è un programma splendido oggi è lunedì domani sera su Rai 2 c'è un programma splendido ragazzi contro credo sia in seconda serata dove un giornalista affiancato sicuramente da tanti psicologi va in una classe e per tre giorni diversi per tre giorni consecutivi fa un'ora 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 muovendo le emozioni dei ragazzi una cosa splendida e parte dando subito del tu e facendosi no immediatamente ma e l'altro io me lo vedo su Rai su Rai Play no perché la sera preferisco andare a letto ma vado su Rai Play e l'altro un ultimo che ho visto un esperimento un giovane senegalese credo no quindi nero va per strada e a un certo punto che male che male si accascia per terra nessuno lo guarda cambia posto si accascia per terra nessuno e così via e così via un collega bianco si accascia per terra cosa c'è devo chiamare 118 cosa fai e così via deumanizzazione quello che ricordate la tazza all'inizio quello che è uguale a me quello che è simile a quello che io ho dentro nella tazza, me ne occupo il nero no non mi viene istintivo di chiedergli cosa c'è, cos'è che non va parte tendenzialmente quindi non è umano deumanizzazione è una cosa che noi vediamo adesso nei documenti quando siamo stati quando l'Italia è stata in Etiopia ha fatto quelle cavolate nei documenti ufficiali si diceva proprio sono bestie e ne abbiamo uccisi a migliaia ne abbiamo uccisi a migliaia in Etiopia, in Libia abbiamo fatto delle stragi ma considerandoli bestie e proprio usavano questa parola nei documenti deumanizzare oppure oggettivare qui abbiamo anche semplicemente tutto in questi giorni nei giorni scorsi è stato il giorno contro la violenza contro le donne questa è una classica oggettivazione io preferisco non parlare di violenza contro le donne ma preferisco usare un altro modo preferisco parlare di violenza degli uomini lavoriamo per far sì di educare gli uomini perché non è violenza contro le donne è violenza degli uomini è violenza del maschile è il modo di educare il maschile allora vi dicevo prima la è il diverso io sono il diverso perché tutti siamo diversi ma in ogni diverso c'è un pezzo in ognuno nessuno immano la verità ognuno ha la propria verità personale ed ecco qui vi ricordo delle cose classiche Pascal lo conoscete in fondo ogni verità bisogna aggiungere che ci si deve ricordare della verità opposta pensate alle persone che la pensano diversamente da ognuno di voi in politica in religione nel modo di pensare che so io alla scuola nel modo di pensare al centro sociale nel modo di e così via e così via pensate cosa c'è di verità nell'altro che la pensa esattamente l'opposto e scoprirete se se riuscite a svuotare quella tazza la Egan classico la contraddizione è la regola del vero la non contraddizione del falso ricorderete chi ha fatto filosofia tesi ogni tesi ha un'antitesi ecco il contrario che incontrando si formano una sintesi ma questa sintesi diventa la tesi di un'altra antitesi e poi di una nuova sintesi se la si fa altrimenti ci si fa la guerra la verità profonda e qui siamo a Bohr Bohr Heisenberg qui siamo nella quantistica le verità profonde sono riconoscibili dal fatto che l'opposto a sua volta ha una verità profonda allora se io dico questo muro è bianco tutti siamo d'accordo questo per Bohr si chiama verità semplice se dico siamo qui in 2, 4, 6 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 è una verità semplice ci siamo contati le verità profonde invece sono quelle che è anche l'opposto se io dico che siamo in 18 se uno dice siamo in 50 è sbagliato no? perché è una verità semplice le verità profonde sono quelle dove anche l'opposto è una profonda verità in questi giorni avete visto in questi giorni un continuo parlare della legge di stabilità della legge europea sul salva stati questa mattina tutta la città ne parla hanno fatto un'ora su questo ed era impressionante vedere come alcuni studiosi dicevano una cosa altri studiosi dicevano esattamente il contrario allora e non sono riusciti a mettersi d'accordo non ce l'hanno fatta eppure sia in chi la pensa in positivo sia in chi la pensa in negativa c'è un nocciolo ci sono due noccioli che vanno ricavati per fare un passo avanti cioè sempre in questi giorni noi vediamo beh abbiamo avuto in questi ultimi due anni il mondo di Salvini oggi abbiamo il mondo delle il mondo delle sardine no? ok allora chiediamoci cosa c'è di profondo nel mondo delle sardine cosa c'è di profondo nel mondo di di Salvini no? e forse riusciremo a capire dov'è che forse è conveniente muoversi e andare no? nessun sistema l'ultimo Gödel nessun sistema di affermazioni può essere autonomo e senza contraddizioni il 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 Gödel è famoso per due teoremi i teoremi della non completezza matematico Gödel ha dimostrato che non c'è nessun sistema autonomo che non abbia delle non abbia delle contraddizioni quindi qualunque insieme di pensiero dentro delle contraddizioni prendete qualunque filosofia qualunque religione qualunque pensiero politico prendete dice Gödel Gödel è partito dalla matematica no? Russell aveva scritto il principio no? il principio matematico no? il principio della matematica Gödel lo va a studiare e dice caro Russell questo ci sono c'è pieno di contraddizioni pensate la matematica Russell i principi fondamentali della matematica e Gödel scrive due teoremi della non completezza nessun teorema quindi stiamo tranquilli il nostro modo di pensare è pieno di contraddizioni per questo abbiamo bisogno di ascoltare l'altro e cercare di capire quali sono i nuclei su cui possiamo lavorare per fare un passo avanti non per raggiungere la verità non esiste la verità esistono solo verità personali beh, guardate anche qui ecco mondo dell'educazione cosa fa? tutti noi abbiamo dei compiti educativi i genitori in particolare ma gli insegnanti tutti gli adulti che incontrano giovani ragazzi beh nel rispetto delle loro capacità inclinazioni naturali aspirazioni quant'è la tendenza a dire ai ragazzi dovete fare così dovete fare in questo modo no? è questa la cosa giusta va benissimo comunicare il nostro pensiero è splendido ma la cosa fondamentale è osservare osservare per capire le loro capacità non quello che noi vorremmo da loro le loro inclinazioni naturali le loro aspirazioni quante lotte e qui c'è tutto il mondo dell'adolescenza no? quindi nel mondo dell'educazione dire il nostro pensiero ma osservare ascoltare e osservare la loro ed ecco è tanto forte è tanto forte è tanto consapevole nel mondo della psicologia l'importanza della diversità che si esprime man mano in particolare nell'adolescenza che ecco che il codice diontologico degli psicologi scrive addirittura una cosa che nelle scuole viene negata lo psicologo rispetta il diritto di ascolto della persona minorenne a prescindere dal consenso degli esercenti responsabilità genitoriale negli sportelli di ascolto che si svolgono e in ambito scolastico mentre tutte le scuole tendono a dire se c'è lo psicologo il minorenne deve andare dallo psicologo solo se ha la firma dei due genitori è un errore enorme che nega cent'anni di psicologia dell'adolescenza va bene qual è la soluzione che invece le scuole non adottano all'inizio dell'anno comunicano ai genitori che ci sarà lo psicologo basta e poi i ragazzi vanno quando vogliono ci può essere un genitore che dice che proibisce al proprio figlio di andare dallo psicologo è chiaro che quel genitore sta facendo un enorme errore ma lo fa però la scuola per non avere erogne dei genitori si tutela negando il diritto dei ragazzi invece che educare i genitori che dovrebbe essere il ruolo della scuola educare i ragazzi ma educare alla genitorialità e invece ci rinuncia quali sono le trappole trappola del voler convincere questo è naturale ognuno tende ad affermare se stesso e quindi pensiamo a quante volte continuamente noi cerchiamo di convincere l'altro una cosa che ci succede a tutti è una trappola è molto difficile metterersi in ascolto e dire io la vedo così e così adesso ascolto come la vedi tu e poi vediamo molto difficile ma è necessario che ve lo dica trappola è difficile per tutti anche per me trappola del voler rendere uguali quante trappole quante guerre abbiamo fatto da Bush in poi mettendoci l'etichetta andiamo a diffondere la democrazia ogni popolazione ogni gruppo ha la proprio tempo di sviluppo proprio tempo di maturazione di crescita di trappola di voler essere uguali che poi questo in un senso ma anche nell'altro senso in particolare nell'adolescenza la trappola di voler essere uguali al giocatore di box al giocatore di football al giocatore allo sportivo al cantante al musicista tutti gli idoli cercare di identificarsi con aiutare nell'adolescenza a dire ma tu che cosa pensi tu in che cosa credi quali sono i valori a trasmettere dei valori scattano questi meccanismi di identificazione trappola di voler essere uguali quindi trappola di voler vincere la guerra è fatta qual è la sostanza della guerra uno vince l'altro perde qual è il risultato del lavoro sull'unire sul discutere è che tutti e due si vince non c'è uno che vince l'altro perde si vince tutti e due perché ci si capisce si lavora per capirsi e poi si va avanti allora quali sono le fonti del conflitto l'identità io ed è corretto se rispetto però anche l'io dell'altro gli interessi i miei interessi ma se rispetto anche gli interessi dell'altro e ne parliamo i valori i miei valori spiegami i tuoi valori e le emozioni la rabbia le emozioni ascoltiamo le emozioni diciamoci le emozioni e vediamo questo è se io mi preparo alla pace ascolto attivamente comunico all'altro riconoscimento e rispetto della sua diversità esploro le vie della no violenza e mi impegno nel negoziare nel cercare di confrontarsi se invece lavoro per la guerra gestisco e qui vinciamo tutte e due se riusciamo a fare questo lavoro gestisco il conflitto come un gioco a somma zero voglio vincere e quindi cerco di farti perdere uso le minacce per persuadere escalation di minacce ed armamenti rinuncia al dialogo guerra oh vediamo qui un caso tipico vediamo che ora siamo sì allora vediamo un caso tipico all'uno insegnante non sono considerato ce l'ha con me critica le mie idee e mi prende di mira e l'insegnante dice no io sono imparziale no non studia si fa beffe di me bisogna scuoterlo ecco le due verità vediamo gli interessi l'alunno ha interesse ad essere stimato e si sente invece umiliato se io parlo capisco che si sente umiliato le mie idee no accetta solo le sue idee insegna parla come se fosse la bocca della verità e a me non va bene dice la luce giustamente l'insegnante vuole essere stimato no io non lo umilio lo sprono non lavoro no non lavora le mie idee accetta solo le sue no io lo correggo si fa beffe di me delle cose che dico vedete i due mondi diversi un esempio molto interesse i valori l'alunno l'insegnante siamo persone non siamo solo materie italiano latino storia no siamo persone ci serve stima e vale solo il suo pensiero i valori ci serve stima la stima che torna l'insegnante serve impegno non si impegna questo ragazzo bisogna esigere non mi rispetta non c'è rispetto vedete due modi due mondi come facciamo attenzione ricordate che qui siamo con dei ragazzi emozioni identità l'alunno sono arrabbiato lei se ne fa beffa mi sento umiliato e lei mi sembra quasi compiaciuta di umiliarmi sono grande lei è una centatrice e non si occupa di me è l'insegnante mi sento sminuita si fa beffa di me si fa bello con i compagni di sminuirmi mi sento impotente e lui lo vedo che è contento di mettermi in imbarazzo ho un ruolo io e lui è un immaturo e non rispetta i ruoli vedete cosa facciamo questo è un caso tipico se noi lo lo andassimo a esaminare vedrete quel vedrete quel programma ragazzi contro ve lo consiglio ve lo ricordo di nuovo il martedì sera oppure su Rai Play lo potete vedere con tutta calma incontro stiamo parlando di ragazzi il primo passo tocca all'adulto c'è poco da fare ma partendo dalle emozioni questo è l'errore che gli insegnanti tendono a fare non partire dalle emozioni vi ricordo due casi qualcuno di voi li conoscono già ma a me mi hanno colpito tantissimo negli anni in cui sono stati al liceo di Alghero un ragazzo che viene e mi dice io andavo malissimo in questa materia un giorno l'insegnante mi ha preso in corridoio mi ha guardato e mi ha detto senti uso un nome a caso senti Francesco ma quanto mi dispiace che che non riesci a farcela nella mia materia mi dispiace proprio tanto cioè quella quell'insegnante nel modo in cui l'ha detto il ragazzo ha sentito che quella che era vicino a quella persona che era emozionata che voleva vederlo felice contento nel suo nel trattare quello che da quel momento non ha più preso meno di sette al contrario un altro ragazzo che viene e mi dice invece era in enorme difficoltà dice io stavo andando andavo benissimo in quella materia mi piaceva tantissimo un giorno ero molto stanco ero stato male ma sono andato a scuola lo stesso sono stato interrogato e non riuscivo a raccapezzarmi stavo proprio male l'insegnante mi ha guardato e mi ha detto non riuscirai mai a combinare niente nella vita da quel momento non sono più riuscito a prendere la sufficienza l'intelligenza emotiva è fondamentale e purtroppo nessuno la insegna agli insegnanti e ai genitori pace quindi preparati all'incontro ascolta comunica riconoscimento esplora le vie impegnati a trovare soluzione empatia dell'adulto allora noi diciamo in psicologia che nella comunicazione o ami la persona con cui comunichi o non ce la farai mai e per chi viene alla psicologia del profondo al teatri sa che abbiamo fatto proprio nel penultimo incontro il quarto principio fondamentale della psicologia sono quattro sono pochissimi principi della psicologia fondamentali sono quattro e li abbiamo fatti tutti quattro e su questo girano tutti i seminari che io faccio applicati ai singoli casi qui applicato al conflitto e il quarto principio è che tutto è uno che siamo tutti fatti della stessa materia abbiamo tutti una pari dignità e quindi questo cosa significa amare dall'amore più intimo della coppia fino a tutte le sfumature fino all'amicizia fino al comune fino allo stato fino all'europa fino al mondo se tu ami mentre comunichi trovi delle soluzioni l'insegnante ogni mattina si alza ed immagina la sua classe e li abbraccia tutti con la sua fantasia e va in classe abbracciandoli dentro di sé lì riesce davvero a disegnare altrimenti ascolto attivo prima di discutere prepararsi a capire prima di andare in classe prepararsi ad amare perché tutti abbiamo la stessa dignità la profondità è frutto di due occhi bissociazioni di due punti di vista tutti siamo intelligenti e una cosa importante quando si discute e si vuole arrivare ad un punto è parafrasare quello che dice l'altro la tendenza è mentre parla l'altro interrompere perché da alcune parole la nostra fantasia va a certe conclusioni invece ascoltare fino in fondo è difficilissimo per tutti anche per me ascoltare fino in fondo e poi dire ah quindi tu la pensi così così e così se l'altro mi dice sì ah ok vado avanti se l'altro mi dice no allora mi corregge è facilissimo che io intenda attraverso il mio vocabolario attraverso il mio modo di pensare ascolto attivo ascoltare senza fretta ognuno vede dal proprio punto di vista focalizzare le emozioni ciò che ti dà fastidio è prezioso ecco questo è un segnale quando qualcosa ci dà fastidio noi tendiamo a interrompere per correggere per dire la nostra no fermi quello è un momento preziosissimo perché se tu lo fermi trabocca dalla tazza se tu invece ascolti fino in fondo stai creando spazio nella tazza nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso noi quando gli altri parlano e esprimono cose diverse dalle nostre è come se ci sentissimo in qualche modo attaccati la mia verità personale viene attaccata no tranquillo nessuno ti può sentire inferiore senza che tu stesso ti faccia inferiore che se tu sei assertivo io sono così l'altro è assertivo io sono così e vediamo un po' che cosa fare ascolto attivo esplorare moltiplicando le opzioni qui vediamo invece fra adulti un caso tipico un altro esempio e poi dovremo chiudere che andiamo verso le sette lei bisogno di discutere non si sente capita piange in silenzio sorride ai figli si deprime le viene l'ulcera lui non ci sono problemi ma te li crei problemi sbatte la porta sta zitto o alza la voce riconoscete un caso del genere è antipico del femminile e del maschile come la storia ci ha formati non è né colpa né merito è proprio la storia è proprio la società che noi stiamo parlando del nostro mondo ci ha formati così e allora è difficile sia per la donna riuscire a capire sia per l'uomo riuscire a capire la metà delle copie si lascia non riesce a risolvere questo problema 30% sta assieme ma non riuscendo a risolverlo quindi standoci male lei che fare? ho bisogno di sapere cosa senti e lui non so bene come esprimere i miei sentimenti perché fin da bambini ci dicono noi maschi stai piangendo ma come sei un ometto non sei una femminuccia capite anche le parole ometto è detto in positivo femminuccia è detto in negativo altrimenti mi sento isolata furiosa sono scoraggiata se non esprimo se non esprimo i miei sentimenti ti amo ma mi sento ignorata non so bene come esprimere i miei sentimenti temo di mostrarti debole di essere una femminuccia non sono abituato a parlare dei miei sentimenti mi sento a disagio quando parli troppo un altro ti amo ma ho paura che tu mi sommerga di parole vi riconoscete incontrarsi parlare con calma uno alla volta per non troppo tempo ascoltando l'altro senza accuse usando il linguaggio dell'io una cosa che può essere utilissima nella coppia mai dire tu non parli mai tu non esprimi le tue sono tutte accuse oppure tu parli troppo ne hai sempre una capite maschio femmina linguaggio dell'io se io dico sbagli a fare così scatta l'assertività mi difendo dice no scusa dici tu che sbaglio ma se io invece dico quando fai così quando dici così quando ti comporti così io mi sento ignorato io mi sento un tappetino io mi sento schiacciato se io ti voglio bene cioè non posso dire di no perché è quello che senti forse scatta un pensiero beh forse no ci penso a non fare così a non dire così perché non voglio che l'altro stia male ma se l'altro mi dice sbagli quando fai così è tutto sbagliato quello qua tu non esprimi mai nessuna emozione l'altro si difende e basta scatta l'autodifesa invece che scattare l'empatia l'affetto l'emozione bene la scuola questo è il disegno tipico della scuola di Bruges della Patford Bruges in Belgio sempre se io non ho qui c'è minore sempre se io non ho presente l'articolo 3 della Costituzione pari dignità sociale sempre si crea una situazione di maggiore minore volendo o nolendo volente o nolente si crea questo può essere un maggiore che ti schiaccio o può essere anche uno che ha un atteggiamento che si fa schiacciare tutti e due i casi ci possono essere pari dignità A e B ecco qua il gioco di bilanciare non è così semplice schiacciamo in molti modi col verbale col paraverbale col pensato col verbale con le parole il mio positivo la glorificazione io è così è così le cose stanno così è così e sempre è chiaro che in questo modo dico il tuo è negativo la tua posizione è negativa ti svaluto col verbale col paraverbale e col pensato cosa significa? abbiamo tre componenti nella comunicazione il verbale sono le parole quello che io vi sto dicendo lo posso decidere il paraverbale è il modo il modo in cui lo dico no? le pause i toni no? su giù lo sguardo mille cose mille cose che posso in cui posso giocare per tenere l'attenzione per far entrare ma poi c'è il non verbale c'è il non verbale verbale paraverbale e qui il non verbale che è fondamentale ma quello non lo posso non lo posso decidere perché che cos'è? è quello che dicevamo prima voi sentite se le cose io ve le sto dicendo perché vi voglio bene o se io ve le sto dicendo semplicemente perché c'è in programma una conferenza e il tema è questo e devo dire quello che su questo tema va detto o che penso che vada detto ecco è la relazione quello che dicevo prima per l'insegnante entrare in classe è quello che dicevo su siamo tutti fatti della stessa materia è l'articolo 3 della Costituzione se io sono dentro immerso nel concetto e nell'idea nell'emozione della pari dignità detto con una parola questo è amore in tutte le sue declinazioni e questo o c'è o non c'è e la gente che ascolta lo percepisce questo è non verbale l'argomentare è uno degli strumenti che noi utilizziamo per schiacciare è un strumento inconsciamente usato per schiacciare il mio è molto meglio io almeno io sono una persona no io sono una persona importante io sono io sono un avvocato io queste cose le so io sono tutti i modi di esprimersi io sono l'insegnante è chiaro come ti dice molto meglio e dico all'altro è irragionevole quello che dici tu io almeno ma cosa dici no non ti rendi conto ma è sbagliato dai 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 non ti raccomando tutti i modi di dire che sono maggiore e minore che formano maggiore e minore maggiore e minore siamo arrivati alle 7 e dobbiamo chiudere qui avremo ancora tantissime cose tantissime cose da dire ma credo che già queste possono essere di aiuto bene ci salutiamo siamo